E' stata recentemente approvata la costruzione di un nuovo centro commerciale da 14.000 metri che verrà eretto sulla Paulese nella zona di Picenengo, a Cremona. Ci si chiede se vi sia la necessità di questa apertura, specialmente vista la presenza in città di altre strutture analoghe. Io non capisco una mancanza di pianificazione urbanistica, non voglio tirare sempre in ballo il comune e i politici locali, ci mancherebbe i miei colleghi, però non lo so, non so dove stiamo andando, un altro nuovo contenitore pieno di prodotti, una società consumistica, abbiamo una società cremonese che cade a pezzi, abbiamo i nostri giovani che sono abbandonati e ha già 13 anni e vogliono comprarsi l'iPhone da 700 euro, andiamo avanti così, benissimo. L'apertura, oltre a costituire una notevole spesa, rischia di dare il colpo di grazia ai piccoli commercianti, già messi in crisi dal mercato e dalla feroce concorrenza dei centri commerciali già presenti in zona. Io sono molto contento perché ero stufo dei piccoli centri commerciali o supermercati che aprivano in centro storico, sono rimasto colpito perché abbiamo un nuovo HyperCop che si aggiunge agli altri che abbiamo già, a tutti i supermercati che abbiamo in centro, tra l'altro vi do una grande notizia perché ne verrà uno nuovo anche a Porta Po, probabilmente nella sede dell'Ims, un altro supermercato, cioè in una città di 70.000 abitanti, quasi tutti anziani, chi è che va in tutti questi centri commerciali? È divertente, non vedo l'ora che apra così magari chiude qualcuno in centro.